Per la prima volta nella storia l'Italia porta 5 squadre nelle semifinali delle competizioni europee. La Fiorentina in semifinale di Conference, Juventus e Roma in semifinale di Europa League non si sfideranno ma potranno affrontarsi in finale per una finale tutta italiana per un ritorno dell'Europa League in Italia e poi naturalmente Inter e Milan che invece si sfidano in semifinale con la certezza di un'italiana in finale e la possibilità della Champions che torna in Italia. Un'ottima situazione, un ottimo momento quindi per il calcio italiano e di certe squadre italiane. Certo ne beneficia un po' tutto il movimento e dobbiamo considerare come comunque anche il Napoli che è stato eliminato ai quarti, è stato eliminato dal Milan in un quarto tutto italiano altrimenti forse pure il Napoli sarebbe in semifinale. Possiamo quindi dire che forse si è sfiorata la sesta squadra addirittura tra le migliori d'Europa. Ma è chiaro che a questi livelli i traguardi sono carichi di significato, di valore e di qualità proprio in funzione del livello del gioco che si alza. Cioè arrivare in semifinale anche solo di conference relativamente alla conference significa essere tra i migliori e quindi tra le squadre che offrono il miglior calcio e che sono meglio organizzate e più in forma. Stessa cosa salendo di livello per l'Europa League e ancora di più naturalmente per la Champions che ha un tasso di difficoltà, un coefficiente di difficoltà elevatissimo. Quindi da una parte ovviamente è giusto gioire per questi piazzamenti dall'altra parte però con coerenza bisognerebbe trovare il merito nell'aver raggiunto questi obiettivi. Per la serie il risultato non basta a se stesso, non si può motivare e giustificare da solo ma anzi dovrebbe essere giustificato e accompagnato dalle prestazioni. Ci sta vincere una partita giocando meno bene dell'avversario e meno bene delle proprie possibilità così come ci sta perdere una partita giocando meglio dell'avversario e al massimo delle proprie possibilità. Ma arrivare ad una certa fase avanzata di una competizione ad esclusione, ad eliminazione diretta come è la semifinale, l'anticamera della finale, beh lo puoi fare solo se hai veramente meritato. Tranne in un caso, tranne nel caso della Juventus che purtroppo è arrivata in semifinale d'Europa League con scarsissimi meriti. Non è neanche necessario aver guardato per intero tutte le partite, basta anche recuperare gli highlights per rendersi conto della qualità piuttosto bassa del gioco della Juventus e dell'estemporaneità di moltissimi gol. E il problema è che la Juventus è la squadra più costosa d'Italia, è la squadra più vincente d'Italia soprattutto negli ultimi anni e quindi quella da cui ci si sarebbe aspettato il rendimento migliore. E invece è anche l'unica squadra declassata da una competizione europea superiore che si è arrivata in semifinale. La Lazio è uscita dall'Europa League e poi è stata eliminata anche dalle Conference, ma in questo momento è seconda in campionato proprio due punti davanti alla stessa Juve, mentre la Juve è in Europa League anche lì senza sapere come. Con tre punti, che quindi sono un punteggio bassissimo anche per finire al terzo posto di un girone, e il terzo posto del girone conquistato sostanzialmente per la differenza reti. Tra l'altro probabilmente la Juventus ha trovato un sorteggio piuttosto agevole, perché tra Nantes, Friburgo e Sporting nessuna delle tre è sembrata essere una squadra formidabile, una squadra particolarmente difficile da battere, anzi erano sostanzialmente tutte e tre piuttosto abbordabili. Quindi c'è italiana e italiana nel calcio europeo. Guardando per esempio a queste ultime partite, beh, la Fiorentina avendo vinto 4-1, avendo vinto 4-1, avendo vinto 4-1 all'andata, nella gara di ritorno ha rischiato in casa contro l'Ekpoznan, ma poi alla fine è passata con un buon margine. E comunque è riuscita ancora a segnare, ad attaccare, senza paura, senza difensivismi, senza anticalcio. Per non parlare della Roma, che ha segnato poco in questa Europa League, soprattutto nella fase finale, ma poi con l'1-0 dell'andata contro il Feyenoord, nella partita di ritorno in casa, ha agguantato i supplementari con merito e poi ha dilagato. Ma, ripeto, basterebbe vedere gli highlights per rendersi conto di quanto la Roma abbia attaccato, di quanti occasioni da gol abbia avuto e soprattutto di come le costruisce, con schemi collaudati, con gioco che funziona bene, con un bel gioco, anche apprezzabile dal punto di vista estetico. E stiamo parlando della Roma di Murigno, cioè stiamo parlando del calcio di Murigno. E poi, a parte il Napoli eliminato, che anche a detta di Guardiola è una delle squadre che fanno il miglior calcio al mondo, c'è il Milan, che ha mostrato proprio contro il Napoli una grandissima e perfetta organizzazione difensiva, ma al tempo stesso una grandissima organizzazione offensiva, e l'Inter, che ha sorpreso tutti, giocando decisamente meglio di come gioca in campionato e, pur essendo una squadra non particolarmente carica di occasioni da gol e di fasi d'attacco, ha saputo dilagare contro il Benfica. La partita di ritorno è terminata 3-3, ma l'Inter era andata sul 3-1 e i due gol, alla fine, sostanzialmente contano poco, visto che ormai la qualificazione era ampiamente conquistata e diciamo che l'Inter ha pure un po' mollato. Ma al di là del numero di gole e delle occasioni da gol è proprio il gioco che l'Inter riesce a mostrare, il Milan riesce a mostrare, così la Roma, così la Fiorentina, solo la Juve e la Cunosa da questo punto di vista. Ora, saranno opinioni soggettive, ma credo che siano confortate anche dai fatti. Basta guardare le partite, anche approfondire i dati con onestà intellettuale e senza preconcetti per rendersi conto che, se è un grande risultato avere 5 italiane nelle semifinali europee, una di queste 5 è il brutto natroccolo, una di queste 5 è l'intruso. Grazie.